Buonasera a tutti e ben ritrovati al Tg7 Basilicata. A Matera questa mattina un anziano è stato investito da un'auto in via Dante. È stato poi trasportato in elisoccorso all'ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso. Attualmente l'uomo di 85 anni è in rianimazione dopo essere stato operato. Sabato scorso a Moliterno un uomo di 78 anni ha perso il controllo del trattore finendo in una scarpata e rimanendo schiacciato dal suo stesso mezzo. Purtroppo nulla da fare per l'uomo nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi. Muro Lucano ha il suo nuovo campo in erba sintetica, un evento tanto atteso dall'intera comunità murese. Il taglio del nastro è avvenuto domenica pomeriggio ad opera del sindaco Giovanni Setaro. Presente all'evento anche l'assessore allo sport Rosalba Zaccardo, alcuni sindaci ed amministratori dell'area interna del Marmoplatano, il presidente della provincia di Potenza Cristian Giordano. Setaro ha sottolineato che insieme all'assessore allo sport e a tutta l'amministrazione si è fortemente evoluto quest'opera che rappresenta un simbolo, un simbolo di rinascita ma soprattutto un elemento funzionale per lo sviluppo dell'offerta sportiva, sociale ed economica del territorio. Ha inoltre aggiunto quanto sia importante lo sport come fulcro per creare relazioni amicali che non si limitano all'ambito agonistico ma che avvicinano le giovani generazioni ad esperienze formative importanti. Del resto far parte di una squadra significa in primis rispettare delle regole, impegnarsi per raggiungere obiettivi importanti, tutte azioni che contribuiscono ad accrescere la cultura civica. Ha inoltre sottolineato Setaro che quest'opera è sicuramente un primo passo ma si tratta solo di un tassello, di un progetto che guarda lontano, un progetto ambizioso che sta pian piano prendendo forma. Infatti il campo sportivo in erba sintetica è solo il primo grande passo per trasformare il centro sportivo in una vera e propria cittadella dello sport, tanto da aver candidato un milione di euro per la riqualificazione della palestra, del bocciodromo, del campo da tennis e per la realizzazione di un campo da padel. Il nostro prossimo obiettivo, aggiunge Setaro, è la costruzione di una piscina coperta. Siamo in chiusura, vediamo insieme le provisioni meteo per domani. Una nuova perturbazione porterà piogge sparse e specie nella seconda parte del giorno. Le temperature sono in calo. Per questa sera è davvero tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e l'appuntamento e a domani. Grazie, arrivederci.